Noi abbiamo sempre lavorato per l'unione del centro-destra, lo abbiamo fatto sempre ad ogni livello, in ogni regione, in ogni città d'Italia. A me sarebbe piaciuto per esempio che il presidente Zaia avesse scelto un assessore di Forza Italia. Non è una questione di numeri, è una questione di rappresentatività politica nazionale. Forza Italia in Veneto rappresenta la storia del centro-destra in Veneto. Se non ci fosse stata Forza Italia, il Veneto non avrebbe avuto dei risultati straordinari. Penso al Mose, tutti quanti adesso applaudono il Mose. Se non ci fosse stata Forza Italia forse non si sarebbe fatto il Mose. Quindi Forza Italia vuole continuare ad essere protagonista in questa regione, pronta a sostenere una coalizione di centro-destra per vincere anche nei comuni, ivi compreso Conegliano.